Sono 600 i volontari del servizio civile che hanno iniziato a lavorare nei comuni del cratere. Il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, li ha incontrati all'Università di Camerino per salutarli nel loro primo giorno di servizio. Siete parte fondamentale della ricostruzione e della ripartenza delle Marche, ha detto Ceriscioli. Ognuno di voi può portare il proprio mattone alla ricostruzione. L'incontro con i volontari è stato anche l'occasione per incontrare il nuovo rettore dell'Università di Camerino, Claudio Pettinari. Dobbiamo continuare con l'eccellente lavoro svolto da Corradini, ha aggiunto Ceriscioli. Ho assicurato a Pettinari il sostegno totale della regione.